Dunners che è ancora vivo ha affermato di avere fatto per anni, ma perché l'abbia fatto? Perché l'ha detto, perché l'ha detto? E io non lo so, un debito di coscienza, un tentativo estremo di tirarsi fuori, si è sentito forse come molte volte succede, c'è il partito, capite, dei paraninfi, poi quando non ricevono la loro fetta di potere si ribellano, no? Io i motivi non lo so, però ha detto questo, ha detto di avere fatto per anni parte di questo gruppo che si era opposto tenacemente a Benedetto XVI durante tutto il suo pontificato. Il gruppo ha lavorato, sono parole sue, per far ovire la formazione di una chiesa cattolica molto più moderna e aperta allo spirito del mondo e per fare leggere Papa colui che più di tutti poteva disinvoltamente incarnare queste nuove aperture, questi processi di cambiamento. L'acidesco